Bene, eccoci nuovamente insieme, ancora una buona giornata a tutti voi, cari amici di Padre Pio TV che ci seguite attraverso radio, televisione, internet, con questo spazio che dedichiamo alla grande devozione di San Pio da Pietrelcina in tutto il mondo, ma in queste puntate introduttive, quest'anno ci stiamo soffermati un po' sulle vostre domande, perché ne approfittiamo anche per la presenza qui nei nostri studi di Padre Carlo Laborde, il guardiano della Fraternità di San Giovanni Rotondo, pace e bene? Pace bene, buona giornata Ben trovato, come stai? Tutto bene Tutto bene, settimana scorsa qualcuno ha già chiesto ma dov'è il Padre Guardiano della Fraternità? Ah, ho avuto un impegno Si è stato Qualcosa sicuramente Con gli esercizi spirituali Ah, sì Alle sorelle Clarisse Infatti, sì Eh, pochi sanno, pare Carlo, che proprio a qualche metro dal convento di San Giovanni Rotondo c'è uno splendido monastero delle Clarisse Molto bello, c'è una bella comunità rinnovata con molte sorelle anche giovani, c'è un gruppo che di recente, da appena un anno, si è aggregato alla comunità già che c'era qui, un gruppo che viene di sore molto giovani, che viene dal Cile E quindi una bella comunità, piena di vitalità, di gioia E quindi un invito anche alle giovani che vogliano consacrare la loro vita al Signore Nell'ambito della vita francescana e nella clausura, molto bello Ecco, ne abbiamo tanto bisogno Loro pregano e si sacrificano per tutta la Chiesa Quindi non è un voltare le spalle al mondo ma il contrario Ecco, essere veramente nel cuore del mondo Nel cuore della Chiesa attraverso la preghiera e il sacrificio Ecco, quindi Che il Signore Possa chiamare Delle giovani Anche questa esperienza Qui nella terra di Padre Pio Dove Padre Pio Ha voluto espressamente un monastero di Claustrali Quindi di Suore Clarisse E che oggi è una realtà molto bella nella nostra città Ebbene Padre Carlo Intanto vediamo già in sovraimpressione lo 082418380 Il nostro numero di telefono per interagire con noi in diretta Sappiamo già che ci sono delle telefonate Ma anche domande Allo stesso tempo anche su Facebook Già i nostri amici hanno Sapendo della tua presenza qui nei nostri studi Hanno già fatto delle domande in particolare Ecco, quando volete, cari amici, potete interagire con noi Ma subito, ecco Pare Carlo Questa prima Questa prima In questi primi giorni Possiamo dire il nostro capodanno liturgico Certo Quali sono E quali devono essere anche Soprattutto Come devono prepararsi In particolare Anche, non solo tutti i cristiani Ma in particolare i devoti di Padre Pio Perché hanno questa spinta in più Ecco, chi vuole Chi è devoto di Padre Pio Chi dice di essere figlio spirituale Certo Io ritengo che tutta la vita sia un avvento Cioè tutta la vita è un'attesa Del Signore Però è ovvio che questo periodo liturgico Queste quattro settimane di avvento In modo particolare La Chiesa ci invita a risvegliare in noi Quell'attesa che dobbiamo portare sempre nel cuore Questa attesa del Signore che viene Come i primi cristiani Che pregavano con questa invocazione Mara Natà Vieni Signore Gesù Avvertivano come quasi imminente Comunque vicina la venuta del Signore Allora invocavano con ansia Con desiderio Vieni Signore Gesù Mara Natà Allora Ecco, in queste settimane La liturgia della Chiesa La liturgia della Parola Ci invita continuamente A risvegliare in noi l'attesa Alla luce dell'attesa dell'antico Israele La prima lettura di ogni messa È sempre presa da un profeta Per lo più di Isaia E quindi ci fa rivivere Quei secoli di attesa Che gli umili poveri di Israele Ecco, hanno vissuto Invocando l'avvento del Messia Del Salvatore E quindi ascoltiamo Ecco, quelle promesse Che Dio ha rivolto a Israele Nella sua infinita misericordia Promettendo un tempo di prosperità Di pace Di ingiustizia Ecco, è quindi questo germoglio Che sorgerà dalla radice di Davide E poi, ovviamente Tempo anche di attesa Della seconda venuta Che noi aspettiamo Ecco, non sappiamo Nell'ora, nel giorno Ha detto il Signore Inutile fare calcoli O previsioni Che sono assolutamente fuori luogo Non interessa quando Interessa come dobbiamo vivere L'oggi Che il Signore ci donna E allora ecco Un invito a risvegliarci Dal sonno Dal torpore Dall'indifferenza Dall'apatia E rimetterci veramente In cammino Preparandoci a questo A questo evento Che può capitare Da un momento all'altro E poi Ovviamente come cristiani Ma anche come figli Spirituali di Padre Pio Ovvio che dobbiamo Cercare di Ravvivare in noi Questo senso Dell'attesa del Signore E accostarci Con maggiore Direi Impegnarci a rimuovere Da noi Tutto quello Che ostacola Il nostro incontro Con il Signore L'egoismo La supervia Quei peccati Che ho abitudini Cattive Che comunque Diciamo in qualche modo Compromettono Che compromettono Il nostro rapporto Con il Signore E che Padre Pio Ci insegna A impegnarci seriamente Cioè Lui voleva Dei cristiani Ecco Che non si accontentassero Solo di preghiera Ma che vivessero Integralmente Il Vangelo Secondo La legge Di Dio E della Chiesa Quindi un impegno In più Chiaramente Un impegno in più Intanto noi Allo 0882 41 83 80 Ascoltiamo I nostri amici Telespettatori Che ci seguono Anche attraverso Internet Pronto Dovremmo avere Una telefonata Sì Susanna Dalla provincia Di Trapani Pronto Susanna Susanna Pronto Buongiorno Buongiorno Io sono Susanna Dalla provincia Di Trapani La sento Pianissimo Perfetto Noi ti sentiamo Benissimo Non so come mai Allora Io Intanto saluto Lei Saluto Padre Carlo È un piacere Per me Avere Diciamo Questa mattina Potuto Conversare Con lui Ogni sera Io prego Con lui Ho un problema Volevo un consiglio Da padre Carlo Ho un problema Che Mi rende Mi rende L'animo Sporco Io non Sono una peccatrice Possibilmente Sicuramente Ho i miei sbagli Però da sette anni Ho problemi Gravi con mia Suocera Sia io Che mio marito Lei Percepisco Che non Mi sopporta Io Ho tre Bimbi Piccoli Non le faccio Non le vado a genio Come persona Lei mi Rimprovera Del fatto Che io Non gli ho Potuto Fare Crescere I miei figli Insomma Mi rimprovera Parecchie cose Abbiamo poco Tempo Quindi io Non posso Diciamo Raccontarvi Tutto Per filo E per segno Adesso Faccio Una breve Sintesi Ieri E l'altro Ieri Per l'ennesima Volta Piazzata Nel pianerottolo Da parte Sua Volgarità Perché a me Per il Natale Piace Fare il presepe Sia a me Che mio marito Abbiamo tre bimbi Piccoli Come ripeto Quindi Adobbo la scala Nel pianerottolo C'è pure lei Io ho messo Una foto Di Gesù Misericordioso Insomma Mi dà gioia Gesù Ecco Lei C'era pure un angelo Appeso a parete Lei ha preso l'angelo E me l'ha fatto volare Mi ha detto Gesù Entralo a casa tua E Mi rimprova del fatto Che io ogni sera Prego con lei E da parete a parete Possibilmente lo sente Ed è convinta Che io Regito il rosario Perché mi devo far sentire da lei Insomma Io ho capito Che c'è qualcosa Di più profondo Che Le mette nervosismo Non so Possibilmente La mia persona Il mio modo di fare Il mio modo di essere cristiana Il mio modo di Seguire la mia famiglia Ha sempre E sempre Avrei da farmi Non parliamo poi Degli altri anni Perché ogni Natale Ne ha una Bene Susanna Il discorso è chiaro Ecco noi andiamo avanti Perché ci sono altre Telefonate Beh Seguici attraverso la tv Capisco che non sia Facile convivere Con una realtà Del genere Che consiglio dare Beh l'ideale sarebbe Andare da lei E dire Senti Mettiamoci a tavolino Come si dice E parliamone Che cos'è Che nel mio modo di fare Della nostra famiglia Ti dà fastidio Cioè l'ideale sarebbe Dialogare Con sincerità E nella verità Se questo non è possibile Io dico Cercare Di non Come dire Di non Operare una rottura Anche se umanamente parlando Verrebbe fatto di dire Beh Se è così Chiudo la porta E non ne voglio più sapere Però per amore del marito Per amore dei figli Credo Per l'unità della famiglia Direi Porta questa croce Con Sarinda Non badando troppo Diciamo così A tutti questi Piccoli dispetti Quotidiani Cerca di fare Finta di niente E vai avanti Per amore di Dio Prega tanto Perché il Signore Le illumini Perché lei possa cambiare Questo atteggiamento Ostile O comunque Ecco Non proprio amichevole Solo questo Che possiamo fare Alle volte Di fronte a situazioni Che sono più grandi di noi Noi dobbiamo L'unica cosa È ricorrere alla preghiera Perché il Signore Possa veramente Cambiare il cuore Illuminare E dare a noi Tanta pazienza Nel portare questa croce Finché lui vorrà Ecco Però se c'è la possibilità Di un dialogo Di un chiarimento A quattro occhi Certamente È la via migliore Certo Intanto c'è Simone Su Facebook Che chiede Perché con Padre Carlo Intanto dobbiamo fare Una piccola pausa Spesso durante la Santa Messa La comunione è distribuita Sotto le due specie Distinte nel corpo Del sanque Di Gesù Sarebbe l'ideale Poterlo fare sempre Cioè la Chiesa Ha sempre insegnato Che è ovvio Che nel pane È presente Tutto il Signore Così come nel calice È presente Tutto il Signore Ecco Per motivi di praticità Quando sono le grandi Assemblee È ovvio Che si dà solo Il corpo del Signore Per motivi di praticità Ma quando c'è Una piccola assemblea Sono poche persone E la messa comunitaria Tra l'altro Delle 730 È opportuno dare Il segno è più eloquente Non che sia diverso Cioè io sempre ricevo Il Signore Comunque Però il segno È più evidente È più eloquente Perché il corpo È il sangue del Signore Come il Signore ha detto Prendete e mangiate Questo è il mio corpo Prendete e bevete Questo è il mio sangue Quindi l'ideale È quello Ecco quindi Il motivo è questo Essendo poche persone Si può fare Certo quando la Chiesa È piena Le difficoltà pratiche Sono Ecco Diverse Anche attraverso Delle piccole domande Dei nostri telespettatori Che poi Anche come abbiamo ascoltato Dalla Signora Susanna Sono delle domande Che un po' rispecchiano I fatti quotidiani Della vita Di molte famiglie Ecco Insieme in questo percorso Con il Guardiano Che ci dà Anche uno spunto Di riflessione Partire da noi stessi Prima che Ecco Andare ad affrontare Queste Queste situazioni Come ad esempio Serena ci chiede Come si fa Ad In tutti gli eventi Della vita Ad imparare A riconoscere Adorare la divina volontà Ecco Come 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 riconoscere Questi segni Beh diciamo Alle volte Ci sono tante situazioni In cui è semplice Capire qual è la volontà Di Dio È ovvio Se mi trovo in discordia Con una persona È ovvio che il Signore Mi chiede La riconciliazione E il perdono Ce lo dice lui Nel Vangelo Cioè ci chiede Ci chiede Di tendere la mano Di fare un primo passo Di perdonare Ecco Quindi È ovvio che In queste circostanze Noi possiamo Capire facilmente La volontà di Dio Ci sono situazioni In cui è ovvio La volontà di Dio Può essere Più difficile Da discernere Richiede Diciamo così Che ci mettiamo Veramente A pregare Che il Signore Ci illumini Che ci dia La capacità Di cogliere La sua volontà Attraverso Diciamo Quello che avviene Attorno a noi Il Signore ci parla Attraverso una persona Un evento Qualcosa che avviene Una situazione particolare Ecco Una lettura Ecco Quindi E poi ovviamente Anche il chiedere consiglio A un sacerdote A qualche persona Illuminata Che mi possa Aiutare a discernere Ecco Dipende dalle circostanze Però Ecco Credo che sia importante Comunque Accompagnare la nostra vita Dalla preghiera In modo che Normalmente Nella preghiera Noi capiamo Qual è la volontà Del Signore Ecco Nei casi più difficili Allora Ricorriamo il consiglio Di qualcuno Che ci possa Illuminare ulteriormente O ci aiuti A discernere Tutto quello Che avviene In nostra vita Ecco Per scoprirvi La volontà del Signore Ecco Bene Abbiamo una telefonata Allo 0882 4183 80 Pronto Nella Nella da Bari Buongiorno Buongiorno Nella Sì sono Nella Da Bari Bitonto Veramente Voglio parlare Con Padre Carlo È qui che ti ascolta Ecco Subito la domanda Nella Grazie Padre Carlo Mi sento già Agitata Per parlare Con lei La sento Tutti i giorni Il rosario La sera Mi dà tanta fiducia Come che fosse Padre Pio Poi Le devo dire Una cosa Volevo Una preghiera Perché A me Padre Pio Forse non mi ascolta A lei L'ascolta Voglio Mio fratello Non parla Niente Come che È un morto Che sta Nella Almeno Che potesse Parlare Io Devo andare A Cesena Che sta a Cesena Voglio Devo andare Venerdì La vigilia La madonna Vado lì Perché lui Sta in una struttura Perché Lui Veramente È sposato Però Non è stato Un matrimonio D'amore La moglie L'ha lasciata E se ne è venuto qui Se ne è andato Con un altro uomo È giusto Padre Carlo È certo Che non è giusto Grazie Grazie Nella Vabbè Prima di tutto Direi la preghiera Preghiamo insieme Ecco Noi ci affidiamo Alla volontà È ovvio Che noi diciamo Signore Se è possibile Fa Che mio fratello Possa Ricuperare La possibilità Di parlare Per avere Questo conforto Se è possibile Se è nella tua volontà Ecco Si compie La tua volontà Noi dobbiamo pregare In questo senso Si compie La volontà Del Signore Preghiamo soprattutto Perché lui sia sereno Perché accetti La prova Con spirito Di fede E che questa prova Possa servire Per la sua Salvezza La sua A santificazione Beh È giusto Che la moglie Lo abbia lasciato E sia andato via Con un altro È ovvio Che non è giusto È contro La legge di Dio E qua dobbiamo essere chiari Perché oggi C'è tanta confusione E io vedo Io vedo alle volte Anche mamme O persone Cristiane Che comunque Frequentano la chiesa E che accettano Diciamo Come una cosa normale Che un figlio Lasci la moglie Si metta Con un'altra persona Come se fosse Certo Lo fanno tutti Ma non per questo È secondo la legge Di Dio Allora queste cose Le dobbiamo dire Chiaramente Certo Il giudizio Spetta Dio Non a noi Ma come situazione È ovvio Che questo È al di fuori Della volontà E della grazia Di Dio Ecco Questo dobbiamo dire Quindi credo Che sia giusto Dirlo Poi il giudizio È ovvio Che spetta Il Signore Che conosce i cuori Che sa giudicare Che solo lui Può giudicare Ma in sé Il fatto in sé Obiettivo È sicuramente Contro la volontà Di Dio Contro la legge Di Dio Ed è indubbiamente Una sofferenza Anche per una persona Che è stata abbandonata Purtroppo ci sono Tanti casi Di questo genere Ma noi dobbiamo Parlare chiaramente Alle volte Vengono anche persone Che hanno fatto questo Che adesso Sono fatti Una seconda famiglia E vengono E vogliono Pretendono la soluzione Allora dovete sapere Che chi Diciamo così Per mille motivi Mille ragioni Talvolta anche Umanamente comprensibili Fa delle scelte Di questo genere Deve sapere Che poi Non si può accostare Ai sacramenti Non può ricevere La soluzione Io ti posso Dire una parola Di conforto Ti potrei anche Benedire Che il Signore Ti aiuti Ma non ti posso Dare la soluzione Né ti puoi accostare Alla comunione Non abbiate poi Queste pretese Sappiate prima Di fare queste cose A che cosa Andate incontro Poi siete liberi Di fare quello Che volete Però Non si può La Chiesa Giustamente Come è giusto Non permette Che queste persone Che hanno fatto Queste scelte Così poi Possano accedere Ai sacramenti Abbiamo una telefonata Un'altra telefonata Di nostro amico Amica Telespettatrice Telespettatore Pronto Pronto Rosaria Rosaria Da Maddaloni Pronto 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 Rosaria Rosaria Non riesco a sentirvi Noi ti sentiamo Rosaria Ecco Attraverso il telefono Ecco la tua domanda Sì Allora Volevo ringraziare Volevo ringraziare Padre Carlo Perché È un trascinatore Di Gesù Ci trasmette tanto Sì E quindi Io volevo Chiedere a Padre Carlo Un consiglio Pre Volevo Dire che Noi abbiamo Una mamma malata Subito Subito Rosaria Che è il Parkinson Che è l'Alzheimer E quindi Apparentemente Chi la vede Sembra che tutto sia normale E quindi Però Passare delle ore Con lei Ci si accorge Di queste malattie Sì E noi Stiamo trascurando Un po' Con la chiesa Per accudirla Perché noi Siamo una famiglia Cattolica Abbiamo sempre Frequentato Ok Quindi Mia madre ci ha insegnato Fin da piccola Ad andare in chiesa Sempre Sì Quindi La tua domanda In particolare Rosaria Per noi I sacramenti Sono importanti Certo Sì Rosaria Se ci ascolti Attraverso la tv È difficile Poter instaurare Anche una chiacchierata Con te Ecco Qual è la tua domanda Subito Quindi io volevo dire A padre Carlo Che molto spesso Non andiamo Per accudirla Quindi Ci sentiamo Rammaricati Di questo Ho capito Va bene Sì ho capito Allora Dico questo Diciamo anche trascurano Anche la loro Se potete darvi il cambio Con un fratello Una sorella In modo che ognuno Possa avere modo Di partecipare alla messa La domenica Evidentemente È bene che lo facciate Se questo non è possibile Prima viene la carità La tua messa È accanto a tua mamma Ecco Tu servendo la mamma Ecco Non Non devi avere Sensi di colpa Cerca di Seguire la messa In televisione Se non puoi andarci Tu stai vicino Alla mamma Perché la mamma È la persona Che ha bisogno Di noi È più importante Di tutto Quando Dio vorrà Che tu potrai Riprendere Normalmente A frequentare la chiesa Lo farai Adesso il Signore Ti chiede questo sacrificio Ripeto Se poi avete la possibilità Di darvi il cambio E allora Uno va a un orario Un altro va Un altro orario Ecco Facciamo una cosa E l'altra Ma se questo Non fosse possibile Prima viene la carità Ecco E per te l'altare In questo momento È il letto di quella mamma Che ha bisogno Ecco Delle cure Della sollecitudine Della vicinanza Della presenza Di una figlia O dei figli Accanto a lei Ecco Questa è la prima Forma di carità È la cosa Che il Signore Sicuramente ti chiede Quindi In questo senso Potete essere tranquilli Ecco Proprio per questo Intanto su Facebook Ti salutano Iolanda Che ha avuto modo Di incontrarti E ti saluta Caramente C'è Roberta E poi ci sono tanti altri amici Telespettatori Della scorsa settimana Che ti salutano caramente Su Facebook Proprio la scorsa settimana Che ricordiamo Era una registrazione Ma sono stati in tanti Che ti hanno salutato E hanno lasciato il loro commento Tra questi commenti Mi piace anche riprendere Parlando di sacramenti Ecco E parlando anche Della signora Che ha chiamato Pocanzi Quando ha detto Ecco Non bisogna accostarsi Ai sacramenti Con questo spirito Ecco Molte sono le domande Che arrivano Soprattutto dalle persone Separate E divorziate Nell'andare a prendere La comunione Soprattutto coloro che Tra virgolette Hanno subito Questo Questo momento Drammatico Della loro vita E che comunque Hanno la volontà E la voglia Di ristabilire Un certo rapporto Ma non ci riescono Ecco Questi come Si devono comportare Possono Accostarsi al sacramento Non devono Intanto abbiamo anche Una telefonata Seguiamo la telefonata Prima? Come volete Allora Intanto do il tempo Per rispondere a padre Carlo Ascoltiamo velocemente La telefonata Pronto Di Maria Maria da Como Pronto Maria Maria da Como Maria devi seguirci Attraverso il telefono Abbassa il volume Del televisore Grazie Eccoci qua Buongiorno Buongiorno a lei Francesco Buongiorno a padre Carlo Buongiorno a padre Carlo Buongiorno a padre Carlo Io le volevo Solo dire Che siccome Il mio momento Di preghiera Sono molto brevi E siccome io Sono sempre Su tele radio Padre Pio Che ascolto Le laude del mattino La messa Però questa nipotina Come voi sentite Non riesco a seguire bene La messa Però io mi sento Che la presenza di Dio Se è così È nella mia casa Non so quanto sia giusto Diciamo Ascoltarla così Con questa bambina Però una cosa bella Sento che anche ai vestiti Alla sera Quando c'è il Magnificat La mia nipotina Si inquadra Davanti alla televisione Ed è una cosa bellissima Però non so quanto sia giusto Padre Carlo Perché certe volte Ho proprio veramente poco Poco tempo per pregare Ecco Anche poca attenzione Stia tranquilla Lei fa del suo meglio Ecco Non può certo Abbandonare la nipotina Se se ne deve prendere cura Sostituire la mamma Che magari lavora fuori Immagino Dunque È ovvio che lei Fa quello che può Ecco Già il fatto di Avere la televisione accesa Di cercare Di far del meglio Per poter seguire Ecco Già un segno di buona volontà Che sicuramente Il Signore gradisce Quindi Lei stia tranquilla Poi In qualche modo È anche un modo di Educare questa bambina Piccolina Vedete l'importanza dei nonni Nel ruolo dei nonni Nei confronti dei nipoti Oggi è fondamentale Sono normalmente i nonni Che trasmettono di più I valori della fede La preghiera All'amore di Dio Ai propri nipoti Quindi anche quello Diventa Ecco un modo di Educare gradualmente Questa piccola bambina All'amore di Dio Alla conoscenza di Dio Quindi stia tranquilla Faccia quello che può E il resto Non i santi subito Quando poi la bambina Sarà grande Non avrà più bisogno Delle sue attenzioni Così in modo così Diciamo presente Beh Lei potrà riprendere Magari in un modo diverso Adesso E quel Signore Le chiede questo Sia tranquilla Brava Maria Salutiamo tutti Tutti i nonni Che ci stanno ascoltando Nonni e nonne Pronto Abbiamo anche un'altra Telefonata Regia? Sì Giovanna da Pistoia Giovanna Giovanna È pronto Buongiorno Buongiorno Vi sento poco Veramente Buongiorno 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 Noi sentiamo molto bene Allora Non vi sento Per telefono Sì Perfetto Sì E senta Volevo sapere Padre Carlo Cosa pensa Delle messe carismatiche Beh Le messe carismatiche Non è che ho una Conoscenza diretta Se Come so che avviene È all'interno Della Chiesa È con il beneplacito Diciamo Del Vescovo È presieduta Da un sacerdote Che in piena comunione Col Vescovo O col Presbiterio Suppongo che sarà Una cosa sicuramente buona Ecco quindi Ecco Tutto dipende Poi dalla sensibilità Di ciascuno C'è magari Chi vi si trova bene Chi si trova a suo agio Chi trova lì Veramente Nutrimento Per la propria Vita spirituale Chi magari altri Per sensibilità diverse Non vi si trovano Ecco Magari preferisco Un altro tipo Di celebrazione Diverse Però Ripeto Quando all'interno Della Chiesa Col beneplacito Del Vescovo Presieduto Un sacerdote In comunione Col Vescovo Col Presbiterio Della Diocesi Quindi credo Che sia sicuramente Una cosa buona Ecco Quindi Non c'è nulla Da temere Grazie Giovanna Intanto ricordiamo I nostri amici Che noi stiamo Continuando Con il progetto Dedicato alla chiesa Di San Pio In Panama Eccole qua le foto Intanto alla regia Attraverso i monitor interni Eccola qua Le vediamo anche Sui nostri monitor Una chiesa per San Pio Ecco Si riferisce a questo viaggio All'anno scorso L'anno scorso Proprio in questo periodo Ecco Lì vedete il padre Gabriele Che è del Costa Rica Dove anche lui Ha le prese Con un nuovo santuario La sua parrocchia Ormai è stata dichiarata Dal vescovo Santuario Diocesano E in vista Anche diventare Nazionale Di padre Pio E lì siamo Andati con lui C'è anche il padre Benigno Il cappuccino Sempre del Costa Rica Però che opera Lì in Panama Ed è il parroco Di quella comunità E lì vedete Delle persone Vestite con Ecco il padre Benigno E il padre Gabriele Questo diciamo È il capannone Sì È una tettoia Una tettoia Sotto la quale Celebrano i sacramenti Ma c'è un grande fervore Vedete anche Dei confratelli Capucini Alcuni sono nativi Degli Stati Uniti Ma da tanti anni Operano in Panama Vedete i bambini Vestiti con i loro Vestiti tradizionali Che hanno cantato Hanno ballato Hanno fatto Dopo la messa Un bello spettacolo Molto Molto bello Ecco la gente Molto gioiosa Hanno proprio il senso Della festa Nel cuore E sono molto allegri Vedete lì come ballano Con i loro vestiti Diciamo Tipici E quindi Ecco Noi abbiamo Messo un po' in atto Questa Collaborazione Ecco vedete Con Per aiutarli A costruire questa chiesa Questa parrocchia Che è già intitolata San Pio da Pietergino Ma ha bisogno Delle mura Di un tetto E di tutto quello Che occorre Per poter Accogliere questa comunità Che già esiste Già formata È una comunità di fede Molto viva Molto attiva Molto impegnata Ma ha bisogno ovviamente Di una struttura E proprio in questi giorni Credo che Siano iniziati i lavori Quindi noi siamo sempre In contatto Con il padre Benigno E abbiamo Qui a disposizione Quella somma Che voi Con tanta generosità Avete Elargito Ecco tante offerte Che abbiamo raccolto Che sono in attesa Poi Di essere Inviate Direttamente Io probabilmente Mi riaffaccerò Nel mese di marzo Dovrei andare Di nuovo In Costa Rica Quindi è facile Che faccia una capatina Anche a Panama A vedere come procedono I lavori Ci porterai anche Altre foto Altre immagini Sicuramente Però È veramente Un'esperienza Molto bella Vedete lì Mi stanno infilando Dei sandali tipici Che usano loro Vedete lì Quella specie Di sacco Di borsa Tipica Dei contadini Del Panama Anche il cappello Tipico Dei contadini E quindi Grande devozione Anche a San Pio In questo luogo Soprattutto in America Centrale America Latina Mi sono stupito Della conoscenza Che hanno Conoscono molto La vita di Padre Pio E questo è piuttosto Raro Diciamo così Quindi evidentemente I cappuccini Ne hanno parlato tanto Le hanno istruiti Quindi Conoscono Padre Pio E lo amano tantissimo Ecco Bene Pare Carlo Intanto C'è Grazia Che deve consegnarmi Un Un elenco Di Di persone Che Hanno chiamato Eccola qui Grazie Siamo in diretta Grazie mille Ecco Che io Consegno a te Giuseppina Intanto chiederei Alla regia Abbiamo qualche Secondo Di andare Sulla pagina Facebook Dei devoti Di Padre Pio C'è un post Dedicato proprio A Padre Carlo Caro Padre Pio Proteggi Sarà un post Che noi Stamperemo E consegneremo Direttamente A Padre Carlo La borde Per andare A porre Direttamente Sulla tomba Di San Pio Tanti amici Che su questa pagina Dei devoti Di Padre Pio Padre Carlo Scrivono Tutte le loro Intenzioni Ecco E vogliono Consegnarle A te Affinché I frati Preghino Per le loro Intenzioni Giuseppina Andrea Marcella Luca Poi Lamberto Credo Lucia Luisella Rita Graziella Filippa Anna Chiedono preghiere Non cito il nome Da cui La città Da dove chiamano E poi ancora Per Saverio Una preghiera Per Saverio Di 14 anni Un ragazzo Che è in coma Dopo un incidente stradale E i genitori Chiedono preghiere Saverio Quartoraro Credo Quartteraro Preghiamo Sì Ho ricevuto anche Delle richieste Per due fratelli Di 30-34 anni Marco Paolo Se ne vado errato Della zona di Bergamo Se non mi sbaglio Anche lui Tutte e due Fratelli Tutte e due Ammalati di tumore Immaginate Ecco Un altro bambino Matteo Piccolo Anche lui Con una grave malattia Insomma Ci stanno a cuore A volte non li nominiamo Così perché Altrimenti dovremmo fare Un elenco interminabile Di nomi E penso che Potrebbe anche Stancare Però li teniamo presenti Io li ho sempre Sott'occhio Il foglietto Con vari nomi Quando recitiamo Il rosario La sera Sono sempre presenti Nella nostra preghiera E anche nella messa Delle 7.30 Quindi Anche se voi Non sentite il nome Però dovete essere certi Che noi comunque Preghiamo Per queste intenzioni C'è anche una bambina Molto piccola Che sono andato a trovare Qui a Casa Sollievo Di 8 anni circa Anna Fabri Della zona di Bologna Gravemente ammalata Quindi preghiamo anche per lei Grazie Padre Carlo Noi chiudiamo qui L'appuntamento con te Per la prossima settimana Grazie ancora Arrivederci